Il settore della moda in Toscana è fra quelli che hanno reagito meglio alla globalizzazione ed è stato determinante per la ripresa dell'economia regionale dopo la crisi. La conferma arriva dal rapporto curato da IRPET e presentato a Firenze. La moda in tutte le sue articolazioni, tessile, abbigliamento, conceria, calzature, pelletteria e gioielleria, da lavoro in Toscana a 130 mila persone. Nell'ambito dell'industria manifatturiera occupa il 40% degli addetti e realizza un valore aggiunto che supera i 5 miliardi e mezzo di euro. Questo ha consentito a un settore che agli inizi degli anni 2000 temevamo essere in crisi, un settore tradizionale che aveva dovuto essere suppiantato dai nuovi paesi emergenti. In realtà questo settore proprio con l'inizio della crisi, dal 2008 in poi, è riuscito a crescere in modo impressionante. Nel 2019 le esportazioni delle aziende della moda toscane hanno superato i 15 miliardi di euro, sorpassando in valore assoluto anche le imprese della Lombardia. Si tratta di dati assolutamente rilevanti. La Toscana spicca per la propria capacità di esportare, spicca per il ruolo che ha assunto a livello nazionale nel settore della moda, con un effetto sistema che forse nel passato non era così presente. Siamo eccellenza nel settore della pelletteria, della concia, dell'abbigliamento, del tessile, dell'orificeria e del calzaturiero. I settori con le maggiori criticità sono quelli che si sono riposizionati sui mercati esteri con maggiori difficoltà, come il tessile e le calzature. Il recupero della competitività può passare attraverso l'adozione delle tecnologie dell'industria 4.0. Ci sono elementi di competitività che stanno anche fuori dal cancello che chiaramente ne devono concorrere a far sì che questi buoni risultati di un comparto importante per la Toscana non arretrino ma anzi crescano ancora di più.